un tavolo permanente di confronto sul tunnel lo chiedono i sindaci della fontana buona dopo l'intesa sul finanziamento dicono serve che l'opera veda la luce in tempi rapidi ripartono i lavori per la nuova copertura del torrente san francesco a rapallo previste modifiche alla viabilità in zona castello in corso a sereto il cantiere terminerà alla fine del 2022 presentata al ministero la candidatura del tigulio a capitale della cultura 2024 a gennaio la scelta dei finalisti entro marzo la decisione finale la comunità di francolano in festa per nostra signora della speranza le celebrazioni in presenza con la visita del vescovo e la gratitudine per il ventesimo anniversario di dedicazione della chiesa consacrata nel 2001 una giornata dedicata all'inclusione di persone migranti con disabilità è l'iniziativa della sezione san margheritese di aifo impegnata a restituire dignità alle persone discriminate buongiorno a tutti bentornati al nostro telegiornale i sindaci della fontana buona chiedono di essere aggiornati costantemente sull'iter del tunnel soddisfatti naturalmente dell'intesa economica invitano a non adagiarsi sugli allori la valle ha bisogno dell'opera dicono occorre realizzarla in tempi rapidi ne abbiamo parlato ieri sera in direttamente su vediamo una sintesi la partita per il tunnel inizia adesso è chiaro ai sindaci intervenuti in diretta tv da moconesi ancora una volta simbolo di un territorio unito dopo la gioia per l'accordo sul finanziamento ora i timori sono per la rivisitazione del progetto per la tempistica e per la gestione l'entroterra avanza una prima richiesta chiediamo le istituzioni di un tavolo tecnico permanente con le istituzioni superiori in cui vi sia un rappresentante dei sindaci della fontana buona così da poter apprendere in modo diretto concreto le notizie di aggiornamento sull'opera e poterle riferire ai nostri cittadini nell'accordo raggiunto tra ministero e aspi si legge che il contributo è di 230 milioni ad oggi l'opera costa più di 300 milioni indicativamente 50 per ogni chilometro di galleria e il tunnel ne conta 5 più altri 50 per i quattro rami dello svincolo e i tratti a cielo aperto i parlamentari attivi in commissione trasporti però rassicurano sia sui soldi sia sulla rivisitazione del piano d'opera è vero che la cifra è ancora inferiore rispetto alle necessità però noi potremo lavorare perché il mix diciamo di finanziamento sia dato dalla cifra dell'accordo più un eventuale pedaggiamento di questa parte di autostrada c'è stata una modifica di normativa ma la normativa si risponde coi tecnici e coi disegni facendo le cose adeguate quindi non è questo motivo sicuramente che può portare a spaventarsi infine i sindaci della vallata chiedono tempi celeri ma non sarà semplice intanto l'accordo va ratificato poi dovrà passare nelle giunte di regione comune di genova e città metropolitana e che poi vede comunque dei passaggi di una società ormai autostrade per l'italia che vede lo stato presente come principale azionista e questo evidentemente avrà bisogno di alcuni passaggi che spero non siano troppo lunghi la volontà di realizzare il tunnel in ogni caso c'è ed è bipartisan la valle lo attende da tempo ed è sempre più necessario stiamo soffrendo con i problemi che ci sono sull'autostrada passano tir a tutti i 8 mesi a qualsiasi ora del giorno e noi a carasco abbiamo un intasamento enorme che è una cosa che non è più sopportabile parliamo di un'altra opera importante andiamo a rapallo i lavori per rifare la copertura del torrente san francesco ricominciano la prossima settimana con la consegna dell'area di cantiere le ditte stanno iniziando ad organizzarsi i lavori dureranno sino alla fine del 2022 e comporteranno cambiamenti alla viabilità l'opera nel suo complesso costerà 6 milioni di euro finanziati con fondi statali e regionali sentiamo il comune di rapallo ha consegnato l'area di cantiere sul torrente san francesco al consorzio poliedro di parma e micos spa di roma che si sono aggiudicate l'appalto dei lavori per la nuova copertura tecnicamente le ditte dovranno completare il primo lotto e realizzare il secondo i lavori inizieranno la prossima settimana e proseguiranno fino alla fine del 2022 la prima fase comporterà il completamento dell'opera rimasta diciamo incompiuta dalla precedente ditta con la posa delle travi già esistenti sul chieditore di rapallo quindi le sei travi dopodiché si partirà con il rifacimento dei muri d'argini con un sistema nuovo si chiama jet crowding quindi una sistema di palificazione meno invasivo tanto il fatto che siamo all'interno di una zona molto abitata per poi proseguire con le demolizioni a step della copertura che verranno ricoperte con diciamo travi in acciaio e non con laterizi come erano già previste nel precedente lotto l'amministrazione comunale ha chiesto garanzie sulla sicurezza in particolare la presenza costante nel cantiere del direttore dei lavori e di un numero adeguato di operai nelle prossime settimane nelle abitazioni che insistono sul cantiere verranno effettuati sopralluoghi preventivi intanto il sindaco carlo bagnasco l'assessore filippo lasinio ed il consigliere maurizio malerba hanno incontrato gli operatori economici in zona massimiliano colombi di ascom non si illude i problemi ci saranno ma il traguardo della messa in sicurezza è troppo importante i problemi evidentemente saranno quelli relativi alla viabilità per la prima parte quindi da qui a fine di questo anno verranno create delle corsie centrali quindi non più le corsie laterali ma corsie centrali per poter mettere per mettere scusatemi la palificazione laterale quando cominceranno poi le demolizioni vere e proprie a quel punto verrà sospeso il traffico su corso a sereto ma avevano create delle rotatorie a ambo e due i lati per poter permettere il traffico comunque di circolare comunque di fermarsi sempre per venire incontro anche alle attività i lavori non si fermeranno durante il periodo estivo ma saranno calibrati per impattare il meno possibile questa opera viene finanziata in gran parte da regione liguria con fondi for pers fortunatamente e diciamo anche con un po di abilità siamo riusciti a far finanziare la restante parte con somme infrastrutturali da parte dello stato quindi per il comune di rapallo diciamo che l'intervento è quasi a costo zero stiamo avendo dei contatti con studi di architettura molto importante a livello nazionale per poter poi studiare assieme e dico assieme nella pluralità dell'opera nel senso anche con le attività quella che sia una riqualificazione della zona la candidatura del tigulio a capitale della cultura 2024 è stata ufficialmente presentata in queste ore il dossier che contiene il progetto culturale gli obiettivi e la valutazione di sostenibilità è stato presentato al ministero della cultura tutte le candidature saranno valutate da una giuria che selezionerà i 10 progetti finalisti entro il 18 gennaio le audizioni si poi nel mese di febbraio e la candidatura più idonea sarà proposta al ministero entro la metà di marzo sentiamo è stato un lavoro molto impegnativo la prima volta che il territorio si cimenta insieme su questo su un progetto di questo tipo un progetto che oltre che i sei comuni promotori in modo più intenso ha coinvolto tutti i 28 comuni aderenti oltre che a varie altre organizzazioni dell'economia del sociale della formazione devo dire che abbiamo raggiunto un buon risultato e un prodotto che tiene assieme la fotografia del nostro territorio e anche alcune linee di sviluppo in campo culturale quindi credo che sia un risultato già di per sé quasi rivoluzionario nel senso che fino ad oggi non è mai esistito ecco un percorso del genere fatto assieme dove ogni comune ha avuto la possibilità di vedere il percorso e tantissimi hanno dato il loro contributo ora il progetto arriverà al ministero e partirà un itero ovviamente che non dipende più da noi confidiamo in un esito positivo in un percorso positivo ma ad ogni modo credo che sia un grande valore per il tutto il territorio su cui costruire a prescindere dall'esito progetti futuri su cosa si è puntato si può già anticipare qualcosa ma poi ci sarà un momento in cui credo che insieme daremo le indicazioni principali ma diciamo che la filosofia è stata quella di valorizzare le peculiarità trovare degli elementi comuni e farne un percorso di sviluppo che vada oltre quello che abbiamo abbiamo già veramente tanto abbiamo cercato di andare ancora oltre non dimenticando chi siamo quindi preservando anche elementi di identità e di tradizione ma ci sarà un momento in cui potremmo presentare al meglio questo lavoro così articolato che anche difficile sintetizzare in poche parole risposta quando è attesa dal ministero dal ministero penso all'inizio del prossimo anno dovrebbe credo non siamo ancora sicuri ma dovrebbero essere questi normalmente i tempi l'inizio dell'anno del 2022 qualche disservizio è previsto oggi nell'area provinciale servita dai mezzi amt a causa dell'assenza di personale per mancanza di green pass l'azienda annuncia la soppressione di diverse corse bus indicativamente circa il 5 per cento del totale sono garantiti alcuni servizi ad esempio quello per i disabili ora veniamo in diocesi la comunità parrocchiale di francolano a casarza ligure ha festeggiato nostra signora della speranza quest'anno sono stati tanti motivi per far festa la possibilità di tornare in presenza e vivere a pieno ogni momento della celebrazione la prima visita del vescovo devasini e il ventesimo anniversario di dedicazione della chiesa avvenuta il 21 ottobre del 2001 sentiamo com'è di trovarsi come comunità in festa con la possibilità di tornare in presenza in tanti ma sicuramente una gioia grande è una gioia grande perché anche se siamo comunque ridotti in numero è un modo per ritrovarsi insieme di fronte a maria che è nostra mamma e quindi è un atto di di fede un atto di speranza un atto di così un atto di consapevolezza anche di ritrovarsi famiglia davanti a lei e sui piedi che ci mostra gesù e ci dica e ci indica la strada è molto più bello come diceva il compianto maestro Ezio Bosso la musica bella si è fatta insieme e quindi cantare insieme nuovamente insieme al popolo insomma è tutta un'altra cosa l'unica limitazione che ancora effettivamente limita dal punto di vista proprio di resa musicale e artistica è il dover cantare con la mascherina. Fatti la nostra signora speranza la visita la prima visita del vescovo cosa significa per voi? è una gioia innanzitutto perché noi siamo qui a nome del vescovo quindi in qualche modo rappresentiamo il vescovo nella nostra comunità cerchiamo di essere in comunione e ricordo che quest'anno è anche importante perché celebriamo il ventesimo anniversario della dedicazione di questo tempio che consacrò Monsignor Careggio il 21 ottobre del 2001 subito dopo l'attentato alle Torri Gemelle per cui particolarmente caro anche questo anniversario che insomma ricordo la breve anche storia che però c'è in questa questa comunità che prima era appunto in un fondo di un palazzo e poi fu inaugurata appunto dedicata la nuova chiesa. Oggi festeggiano 63 anni di matrimonio Luigi e Luisa Costa una coppia di sestresi con volata nozza il 19 ottobre 1958 nella parrocchia di Santo Stefano del Ponte a Sestri Levante. Accomunati da un'infanzia assegnata dalla tragedia della guerra Luigi e Luisa hanno vissuto la loro giovinezza piena di speranza ed entusiasmo e insieme hanno affrontato le difficoltà della vita nel sostegno reciproco. Genitori di Massimo e Nicoletta oggi riversano tutto il loro amore sui figli e sui nipoti. Intanto stiamo vedendo le immagini oggi è una giornata naturalmente importante dove tutta la famiglia si unisce nell'abbraccio riconoscente attorno a Luigi e Luisa immaginiamo figure di riferimento preziose ed importanti. I festeggiati vanno le felicitazioni anche da parte di tutto lo staff di Telepace. Ora c'è la rassegna stampa. Avvenire titola Cappottino Rosso perché non è proprio un cappotto ma poco ci manca cioè due su tre città importanti al centro-sinistra e naturalmente sono Roma con Gualtieri, Torino con Lorusso e in altri sei capoluoghi. Al centro-destra solo Trieste con Di Piazza, Mastella resta sindaco di Benevento. Con i ballottaggi la partita dei sindaci finisce 15-5 ma a vincere soprattutto la stensione. L'editoriale di Marco Iasevoli proprio dice vittorie vere stanche i segnali da voto e non voto comunale. E ancora purtroppo la questione degli immigrati che viene trattata solo da avvenire in questi giorni. Sicilia, soccorso in mare, 400 persone, allarme per 75, migrante paraplegico lasciato sullo scoglio. A Trieste sit-in e scontri, anziani badanti a rischio, polizia costretta a usare gli idranti per sgomberare il porto, Alcuri viene indagato per la questione delle mascherine. Alcuri era il commissario straordinario della pandemia con il governo Conte e Bis. Le violenze addolorano, Mattarella contrastiamo la deriva antiscientifica e poi il Papa parla di sanità. C'è il malato prima della malattia, medicina antiscarto. Al Van Vitelli di Napoli la scoperta che ridà la vista ai bambini e poi i missionari sequestrati nelle UAE sciopero ad Haiti contro i rapimenti. Passiamo alla prima pagina del secolo XIX, vince eletta ma è fuga dai seggi a Savona record di voti per russo. Vediamo appunto il neosindaco del centrosinistra che quindi ritorna un governo di centrosinistra nella città savonese, la città della Torretta. Una scossa con vista a Genova per i due fronti. Il commento di Roberto Nofrio, Mauro Barberi, si è un'analisi perché l'Italia decide di non votare. E in Liguria, tra Totti e gli alleati, l'ora delle accuse incrociate. Lega e Fratelli d'Italia, basta protagonismo e il presidente serve un tagliando. Le scelte dei savonesi, un terzo dei grillini, ha preferito l'avvocato. E poi ancora il dolore di Mattarella per la violenza che ostacola la ripresa e ancora gli scontri, gli idranti con battaglia a Trieste davanti al porto. Dal nostro territorio il presidente del gruppo Doferco Gozzi dice potenziare la logistica per la ripresa del nord-ovest e poi tamponi in esaurimento scatta l'allarme nelle farmacie del Tiguglio. E non solo, farmacie allo stremo, clienti per i tamponi persino arrivano dalla Spezia. Centrale di Chiavera Internazionale di Rapallo hanno superato i 100 tamponi al giorno. Cerchiamo di soddisfare tutte le richieste ma abbiamo le agende pienissime. La novità del test gratuito dopo la prima dose ha fatto schizzare ancora di più le richieste anche alla casazza di Cicagna. Lunghe file, talvolta l'apertura di alcune farmacie viene anticipata. E alla fincantiere Arinox, ora FIOM cerca intese per i test calmierati. Cambia il modo di smaltire gli oli esausti a Santa Margherita Ligure. Da domani infatti saranno posizionati in città sette bidoni in cui non si dovrà versare direttamente il liquido. Bisognerà invece lasciare l'olio all'interno di una bottiglia di plastica ben chiusa. Non bisogna usare bottiglie di vetro. La ditta incaricata del servizio, la SAPI Green Oil SPA, ritirerà i bidoni sostituendoli di volta in volta con altri puliti e si occuperà di smaltire correttamente sia l'olio sia le bottigliette di plastica. I contenitori come detto saranno collocati in piazza San Siro, in via Milite e Gnoto, nella zona dell'ex cantiere Spertini, in via Principe e Centurione e via Fratelli Arpe e in via Roma. Vicino ai contenitori dalla raccolta differenziata e accanto al gestino getta carta sotto la scaletta. E infine saranno posizionati anche nelle frazioni collinari di San Lorenzo della Costa e Nozzarego. Adesso gli aggiornamenti dalla redazione. È pronta Emanuela Castello. Grazie Maurizio. Buongiorno a tutti. Questa mattina a Genova sono stati consegnati a Regione Liguria due nuovi treni regionali. Si tratta dei cosiddetti treni pop, una tipologia di treno entrata in funzione di recente nella nostra regione. Il contratto di servizio che Trenitalia ha sottoscritto nel 2018 con Regione Liguria prevede la consegna di 48 nuovi treni e quindi un investimento di circa 550 milioni di euro che garantiranno il rinnovo totale della flotta ferroviaria Ligure. In sostanza fino a questo momento, cioè quindi fino a ottobre 2021, sono stati consegnati 31 nuovi treni, 5 jets, 15 pop e 11 rock. Attualmente dunque è stata completata la fornitura di treni pop. In sostanza quali sono le caratteristiche di questa tipologia di treno? Si tratta di treni ad un unico piano, a media capacità di trasporto, a 4 carrozze con 4 motori di trazione. La velocità massima è di 160 km orari e il trasporto complessivo è di 530 persone. Prossimamente verranno consegnati altri due treni rock, treni che faranno sempre servizio regionale e in questo caso per ciascun treno la capienza è superiore perché si tratta di treni a doppio piano. Per il momento è tutto dalla redazione Lina allo studio. Bene grazie, ora vediamo due flash di sport. Parliamo di Pallavolo, la Serie C femminile, sabato alle 18, andrà in scena il derby, Admo, Lavagna, Tiguglio Sport Team. Le due formazioni tigulline fanno parte del Girone B insieme al Paladon Bosco Genova, Norma KVB, Serteco Volley School, Podenzana Volley e Avis Casarza Ligure, intanto anche la Locandina. Il 13enne di Rapallo, Matteo Gallo, pilota karting, ha ottenuto il quarto posto assoluto su 38 partitari partecipanti nella classifica generale del campionato di Easy Kart categoria 60 cilindrate, il secondo posto assoluto su 40 iscritti nella ventesima edizione della gran finale internazionale di Easy Kart. Anche qui il momento della premiazione. E ora siamo alla nostra programmazione, questa sera torna al Si può dare di più, alle 21.10 sul canale 15 di Telepace si parlerà dell'Aifo, l'associazione italiana Amici di Raul Follero. Il gruppo impegnato nel campo della cooperazione internazionale allo sviluppo ha una sezione anche a Santa Margherita Ligure che recentemente ha promosso una giornata dedicata all'inclusione di persone migranti con disabilità. Vediamo. Che cos'è l'Aifo? L'Aifo è l'associazione italiana Amici di Raul Follero, è un'organizzazione socio-sanitaria che lavora nella cooperazione internazionale, è partner ufficiale dell'Organizzazione Moderna della Sanità. Ci occupiamo di salute e con la salute ci occupiamo della lotta alle discriminazioni, del risiedimento sociale di persone che per la malattia o per delle fragilità, come possono essere la disabilità, devono essere reinserite nelle società che a volte per questa discriminazione le allontanano. Qual'esperienza di questa manifestazione ha Santa? Allora oggi abbiamo fatto vari giochi sull'inclusione delle persone migranti con disabilità, in particolare ho proposto un gioco sui mimi per rimedesimarsi nelle persone che non possono parlare o sentire senza poter parlare ma solamente attraverso dei gesti mi mando una scena oppure facendo dei semplici suoni. La difficoltà poi è stata ulteriore perché c'erano delle persone non vedenti quindi abbiamo dovuto spiegare, illustrare tutto quello che avveniva nella scena delle persone che stavano mimando. Io lavoro per rafforzare i gruppi locali e per rafforzare anche il gruppo giovani di AIFO e il gruppo di Santa Margherita ha deciso di scommettere sui giovani per organizzare uno scambio fra giovani d'Italia, Spagna, Belgio e Francia che sono interessati a lavorare per l'inclusione. Perché sono interessati a lavorare sull'inclusione? Perché se stanno bene le persone che di solito sono discriminate vuole dire che possiamo stare bene tutti quanti. Quello che AIFO ha imparato a fare nei progetti dei paesi sfruttati, dei paesi poveri, possiamo farlo qua. Con poche risorse possiamo rendere per esempio accessibili le strade, i posti di lavoro, rendere, restituire dignità alle persone che vengono discriminate. Prima di chiudere vediamo gli appuntamenti in programma per oggi. Martedì 19 ottobre dalle 9 alle 14 è aperto il Museo Archeologico di Chiavari che conserva reperti e testimonianze dal territorio ed in particolare tratta del sepolcreto monumentale del VII secolo scoperto nel 1959 in Corso Millo. Il buco è un film di Michelangelo Fran Martino, premio speciale della giuria al Festival di Venezia del 2021 che racconta l'impresa di un gruppo di speleologi che nel 1961 si sono addentrati nell'abisso del bifurto nel Parco del Pollino. Sarà proiettato alle 21 e 15 al Cinema Mignon di Chiavari. Siamo giunti al termine, ci ritroviamo con il telegiornale stasera alle 19 e 15. Grazie per l'attenzione e buon proseguimento di giornata. Grazie a tutti. Grazie a tutti.